Dunque da lunedì prossimo prende il via anche la tradizionale campagna di vaccini contro l'influenza nella nostra regione. C'è la possibilità nei casi in cui ci sia questa concomitanza di poter inoculare contemporaneamente nella stessa sessione anche il vaccino anti-Covid. Questo è quanto sta emergendo dal punto di vista scientifico ma ci saranno riunioni nelle prossime ore che daranno anche il via libera alla somministrazione diretta del vaccino per l'influenza nelle farmacie. Su queste novità abbiamo in diretta la nostra Anna Di Giorgio che questa mattina ha sentito l'assessore Veria e che ora si trova proprio in una farmacia. Anna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Carmine e ai nostri telespettatori. Sì, dicevi ben tu, riepilogando un po' tutto quello che adesso andremo ad affrontare nel corso di questo nostro intervento in diretta. Partirà da lunedì la campagna anti-influenzale anche in Abruzzo e darà la possibilità a chi vorrà di vaccinarsi contemporaneamente sia per il Covid che contro l'influenza. Due campagne quindi che andranno avanti parallelamente perché saranno compatibili, due sieri così come stabilito anche dal Ministero della Salute. Io intanto vi presento l'ospite che ho qui con me. Accanto a me c'è il dottor Federico Pasquali della farmacia Pasquali che si trova in zona San Marco a Pescara per intenderci proprio di fronte al palastetto dello sport Giovanni Paolo II. E perché siamo qui? Perché questa è una delle farmacie che già sta portando avanti delle sessioni di campagna vaccinale anti-Covid. Infatti la farmacia oggi è aperta proprio perché il dottor Pasquali ha già vaccinato alcuni utenti che si sono recati qui. Di tutto questo parleremo tra pochissimo ma intanto come dicevi tu questa mattina abbiamo ascoltato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. Possiamo sentire l'intervista chiedendo alla regia di agevolarla. Poi rientriamo in studio per poi rientriamo appunto riprendiamo il collegamento per altri approfondimenti. Ma intanto l'assessore Veri. Nicoletta Veri assessore regionale alla sanità. Da lunedì dunque partirà la campagna anti-influenzale in Abruzzo. Le dosi saranno sufficienti per tutti o si potrà creare qualche ritardo come è accaduto in passato per una carenza di sieri? Le dose così come stabilite sono state consegnate già in base alla richiesta che è avvenuta in tutte e quattro le alz. Queste dosi saranno poi consegnate nei centri delle vaccinazioni quindi nei centri della prevenzione e poi ai medici di medicina generale. In base all'accordo Stato-Regioni che ci sarà venerdì 8 daremo la possibilità di poter vaccinare anche presso le farmacie. Chi potrà ricevere questa dose, questo vaccino anti-influenzale? Il vaccino anti-influenzale è fortemente raccomandato ma volevo anche sottolineare che in forma gratuita a tutti i sanitari, a tutti gli over 60 e anche ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Specialmente in questo periodo che c'è ancora il virus in giro è importante fare questa vaccinazione perché ci permette innanzitutto di fare una diagnosi ben precisa ma soprattutto evitiamo quelle che poi saranno i futuri ricoveri in ospedale. Intanto parallelamente andrà avanti la vaccinazione anti-covid, questi due sieri potranno essere somministrati insieme? Sì, secondo le linee guida ministeriale sia la terza dose, la somministrazione della terza dose che la somministrazione del vaccino anti-influenzale possono essere somministrati insieme. Stiamo organizzando con gli hub vaccinali e con l'equip proprio per organizzarsi su tutto il territorio per questa somministrazione. Fin qui dunque Anna, le dichiarazioni dell'assessore Nicoletta Verì. Le farmacie dunque si preparano a tendere questo semaforo verde che arriverebbe venerdì prossimo per poter vaccinare anche contro l'influenza nelle proprie sedi. A te. Esattamente sì, come dicevi bene tu, come ha anche ribadito l'assessore Verì, noi siamo proprio con Federico Pasquali che già dicevamo sta facendo i vaccini anti-covid. Allora la domanda è, siete pronti anche per la somministrazione dei vaccini anti-influenzali? Assolutamente sì, noi farmacisti siamo in attesa di completare un corso per le vaccinazioni anti-influenzali che sarà presto online e quindi lo potremo sicuramente fare al più presto. Le farmacie hanno aderito con entusiasmo alla campagna vaccinale anti-covid e aderiscono nella stessa maniera a quella anti-influenzale. L'opportunità è enorme perché chiaramente la capillarità delle farmacie permette agli utenti di raggiungere facilmente un punto vaccinale e questo si innesta anche nella possibilità ultima data dal ministero di poter abbinare le due vaccinazioni, quindi poter fare nella stessa sessione vaccinale sia l'anti-influenzale che l'anti-covid anche per venire incontro magari agli ultimi ritardatari che magari convincendosi potrebbero aderire a questa campagna importante. Aiutandoci magari anche a raggiungere quanto prima la soglia dell'immunità di greggio, quel fatidico 80% di cui si è parlato per mesi e mesi. Giusto qualche dato per riepilogare a che punto siamo. 940.000 abruzzesi di età compresa da 12 anni in su, insomma quelli che possono farsi il vaccino anti-covid hanno completato la campagna di immunizzazione, quindi doppia dose di vaccino anti-covid. Siamo una percentuale del 79%, l'assessore Verici ha detto che quindi a brevissimo raggiungeremo questa immunità di greggio ma c'è anche l'83% degli abruzzesi ha invece fatto già almeno una dose, quindi in alcuni casi diciamo che le percentuali e anche in alcune fasce di età salgono notevolmente. Resta scoperto un 17% di abruzzesi, oltre 200.000 che non hanno fatto neppure una dose. Un dato però questo che comprende anche le persone che sono esentate dalla vaccinazione. Velocemente qui come sta andando, visto che state facendo anche i vaccini anti-covid? Noi per quanto riguarda i vaccini anti-covid abbiamo moltissime richieste e questo testimonia appunto la comodità che può avere un punto come una farmacia nel raggiungere le persone, anche quelle un pochettino più anziane che magari per raggiungere un hub vaccinale lontano avrebbero dei problemi di trasporto sia nell'andare che nel tornare. La farmacia è sempre sotto casa più o meno di tutti e quindi sicuramente raggiungibile. Le richieste sono in aumento chiaramente, infatti stiamo cercando di aumentare le sessioni vaccinali almeno a tre settimanali. Allora grazie al dottor Federico Pasquali. Carmine, se non hai domande da studio possiamo restituirti la linea. Allora grazie al dottor Federico Pasquali.